Potrebbe essere la sfida degli ex quella di domenica prossima, 10 dicembre, con inizio alle 15 al Carota Bordonaro tra Canicatti Calcio e Atletico Campofranco, valida per la quattordicesima giornata del campionato di eccellenza Sicilia a Girone A. Infatti sulla panchina della squadra nissena sta per sedersi Giovanni Falsone, l'allenatore di Campobello di Nicata, artefice, assieme a Geroiannello e Alessandro Pirrotta, della promozione del Canicatti nel massimo campionato regionale. Falsone, fino a pochi giorni fa, era alla guida del Vallelunga, squadra che milita in promozione, ma l'altro ieri si sono interrotti i rapporti tra il tecnico e la società nissena. Allo stesso tempo Angelo Bognanni, allenatore del Campofranco, ex Serra di Falco, che doveva iniziare la stagione in eccellenza con il Raffadani, che non ha ratificato l'iscrizione al campionato, si è dimesso da allenatore, lasciando libera la poltrona che sarà occupata da Falsone. Falsone ritroverà il suo pupillo Geroiannello e, visto che è libero, punterà anche su Alessandro Pirrotta, svincolato dal Canicatti Calcio. Il tempo a disposizione per preparare la gara di domenica in caso di ufficializzazione dell'ingaggio di Falsone alla guida del Campofranco, che avverrà nel pomeriggio di oggi, è davvero poco e potrebbe accadere anche che l'ex allenatore del Canicatti non riuscirà ad essere in panchina domenica al Carota Bordonaro. Dall'altra parte il Canicatti ha svincolato, continuo, Pirrotta e Accetta ed è alla ricerca di un attaccante, di un portiere. Sfumata la trattativa con Di Peri, che ha preferito restare in Serie D, in casa Canicatti Calcio si registra un movimento in entrata. È stato ingaggiato il centrocampista Giuseppe Priolo, che lo scorso anno era in forza a Raffadani ed aveva iniziato il campionato a Campofranco. Priolo è stato tesserato e sarà a disposizione di Mister Sebi Catania già a partire da domenica nella sfida col Campofranco. Grazie a tutti.